Direi che la sessione è anche chiunca per avere le risposte sono altre, in delle parole come quelle che sia il sensore strano, come anche il governolino, che anche se fossero uno dieci. Portateci la riflessione al punto del lavoro dei fatti costituenti che per noi c'erano così di là, ma anche di potremmo risolvere oggi. Prego, danni il noto che il direttivo deve essere un'opera. In questo caso, avremmo in mente quella cosa da dire, ma non necessitare la situazione è grande, perché in questi casi, in questa situazione, in queste problematiche che c'erano di uomo, purtroppo si mettono gli uomini, gli uomini, gli uomini, gli uomini, perché non si può fare purtroppo con una magma di disegnalità voluta, di mazzanza di chiarezza voluta, e di che, nel senso che non si possono mai fare i risultati di altri diversi, perché poi il fondo è un po' di altri, quello che si serve, quello che si serve, perché comunque anche il tipo di scuola che si vuole, il tipo di cittadino che si vuole, quindi il tipo di persone che si vogliono perché si hanno disegnato, è questo. Tutte queste cose, come questo è un po' di scuola che si vuole, ma non è una cosa che non faccia, per esempio questa storia privata, che non si sa bene di cosa fare, che cosa non faccia, chi accoglie e chi non accoglie, una scuola privata che vuole essere installata in un progetto che è stato brutto, che cosa succede con questo progetto? Come si sa poi alle sue linee che ha dato scuola oggi? Sono discorsi grossi, sono discorsi un po' molto complicati, allora ci vuole venire una parola chiave per i due sanzuoghi in questo discorso che è l'obbligatorietà, obbligatorietà che si chiama obbligatorietà che si chiama obbligatorietà che si chiama obbligo di ogni in persone che in caglie delle persone conciate, in pagare a che in caglie delle persone conciate. E questo è ciò che si sa bene nella scuola pubblica, per fare per esempio, in una casa è un incontro o un mangiare, in una città per essere innovare, mi è capitato una signora insegnante di un po' della pubblica che mi parla di ogni e qui si manda nella scuola privata, perché voi che insegnate come metà nel inizio nel mondo, ne le potete uscire per chiunque, ci sono l'indica, ci sono un meglio, la scuola privata è anche questo, è motivata per la scuola, e se ne si manda nella scuola privata, è per questo, no, anche. Allora, la scuola pubblica è un po' fondamentale, una filosofia, ma una filosofia di popoli, è quella che viene da condivisa da tutti, cioè non è che ormai, che i cittadini si trompano, quelle di concorre, la dobbiamo ai cittadini, dove i cittadini devono imparare, comunitaria, un muro in crescere, un sacco tra il livello. Una cosa è che tutti, i decreti, i decreti del canto, è la nostra naturale, continuo a te le cose, lo fa lì, un tuo avuto. Vediamo anche le persone, ma di recitare, come poter essere, a tre, in maniera, a non lavoro, in un'altra, per cui, anche le conversioni, è chiaro, ma dobbiamo continuare, un giorno, non bisogna più, in un'interprezione, in un'interprezione, in un'interprezione, bisogna continuare, in una scuola, in un'interprezione, in una scuola, che sia fuoco di un giorno, a livello, a tutti i livelli, a tutti i sociali, perché bisogna, e obbligatorie, tassi a votare, è ottimo, perché una società civile, si fonda su quello, non sui settorialismi, non su un giudice, in una delle lavori, a scuola, in India, per i soldi, da la donna, e lì, tutto potrebbe succedere, nella sua privata, e ormai, nella sua politica, la sua politica, risposta, ormai, a scuola, in termini, è una lezione, di un'interprezione, o sottolineare, indipendentemente, da un'altra cosa, che parte, naturalmente, un buon modo, di non cercare, di una certa, perspetiva, di una scuola privata, perché noi, non finitiamo, per le scuole spazi, adesso, che diciamo, adesso, quest'anno, non è mai, di dieta, le scuole, perché di dieta, quindi, non è che, 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 se ci ricordiamo, di half, un bambino del governo, Sì, che è la scuola, dell'infante, invece, la scuola, che noi, possiamo, che è, di vera, proprio, a livello filosofico, bisogna, bisogna, inserire, comunicare, anche di questo, noi, vogliamo, una scuola, che sia, tutura, che sia, il cronolo, di genitos, bambini? E' difficile, come ti chiedi? Grazie, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.